Questa no. Niente banana, certo. Due settimane in Europa, una piccata. Voglio godermi questa vacanza, stare un po' con MJ. Sei davvero bella. E questo per te ha un valore? No, 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 non intendevo quello. Ti sto sfottendo. Credo di piacerle. Meno male. Sai, mi ricordo quando... Finalmente è un piacere conoscerti, Spider-Man. Lei è Nick Fury. Mettiti qualcosa addosso, andiamo a fare un giro. Credo che Nick Fury abbia appena dirottato la nostra vacanza. Fighissimo! Sei dotato, Parker. Ma c'è un lavoro da fare. Te la senti oppure no? Sei da solo. I tuoi amici sono in pericolo. Che intendi fare? È meglio che ne stai fuori. Chi è quello lì? Sembra un incrocio tra Iron Man e Thor. Lui non è Spider-Man. Perché sei fissato con Spider-Man? Perché controlla il quartiere. Ha un costume che spacca e io lo rispetto. Capito? Sfigato? È c'era l'��ore. Andiamo, capito. Ciao. Ciao. Iscriviti. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.